...canti, occhiolini, allora si sente braccato perché capisce di essere capitato in un locale di altre tendenze e comincia a muoversi con una mano a terga come se fosse un anziano che passeggia sul parco e vuole proteggersi da quale pericolo incombente. Quindi ve la cantiamo con un brano di Michael Jackson. Prego maestro! E pure il mio nome è maldetto, non recarti quel baretto, più che fai un po' servizio, da ti fanno il servizietto. Se ti chiedo di ballare, tu il trenino non lo fare, anzi devi mi protetto con le mani e di dietro perché... E' pieno di ginocchi, apri gli occhi, apri gli occhi. E' pieno di ginocchi, apri gli occhi. E' pieno di ginocchi, c'è il trenino non lo fare, anzi devi mi protetto con le mani e di dietro. Tu non ci parlare, tu non ti vuoi dare, stai giù di nuovo. Ecco i miei amici, non vizio, che mi afferra per un braccio. Vuole offrirmi qualche cosa, dice per rompere il ghiaccio. Tu ami il ghiaccio non rompi, t'ho capito, ragazzetto. Tu non vuoi rompere il ghiaccio, tu vuoi rompere il pupetto. Mi chiano ginocchio, si chiano ginocchi, si chiano ginocchi. Stai giù di ginocchi, ginocchi, apri gli occhi, a me per gli occhi. Non vende, glielo di ginocchi, ginocchi, a me per gli occhi. Tu non ti vuoi dare, tu non ci parte, stai giù di nuovo. giù le mani del mio questo posto non mi piace me la sfigno ma dibotto mentre ferro il mio capotto il portafogli casca sotto mo lo prendo o non lo prendo dentro ci sta lo stipendio ma se un amico mi fletto qua mi squagliano il cubetto prendo i portafogli lo raccogli non credo prendo i portafogli e perché lo raccogli non penso no prendo i portafogli prendo i portafogli prendo i portafogli a ridata che lo prenda o non lo prenda in culata c'è lo stesso scendi cosa ti è più caro tra il sedere e il denaro dietro tesoro già tanti tu ti fila con i guanchi scendi cosa ti è più caro tra il sedere e il denaro prendo i portafogli da te lo raccogli non penso prendo i portafogli no, no, non voglio e dai morti lo dito che c'è la sorpresa si non detti il denaro cazzo non lo fa stai c'ho le mani da mio c'ho le mani da mio che lo prenda o non lo prenda in culata c'è lo stesso scendi cosa ti è più caro tra il sedere e il denaro dietro tesoro già tanti tu ti fila con i guanchi scendi cosa ti è più caro tra il sedere e il denaro prendi i portafogli da te lo raccogli no, prendi i portafogli appuna con i bifigas i portafogli c'è i tricas scuro di finare cazzo non lo stai ci sono 500 euro di stimmelio nei portafogli le scelte sono due o minchino o minchino grazie